Come si tratta di tutelare la sanità pubblica? I cittadini del Veneto abbiano un servizio efficiente, efficace e non debbano aspettare mesi per una visita. Ed inoltre vogliamo che non sia mai che un giorno al posto di andare in ospedale e dover mostrare la carta di identità come si fa adesso, si debba arrivare al punto di dover mostrare la carta di credito. La sanità deve rimanere un diritto universale. Ogni anno come consiglieri di opposizione durante la manovra del bilancio presentiamo moltissimi ammendamenti per dare più risorse alla sanità pubblica. Purtroppo ci vengono sempre bruciati e a volte crediamo sia giusto togliere a inutili spese di bilancio delle voci tipo pista da Bob o buchi creati dalla pedemontana perché i soldi dei Veneti devono essere investiti in sanità pubblica. Questo è quello che facciamo da sempre. Purtroppo siamo in 10 e non possiamo nemmeno chiedere un consiglio straordinario perché dovremmo essere in 13. E quindi facciamo quello che possiamo. Ci starebbe bene però oggigiorno in questa legislatura fare un bel consiglio straordinario per parlare di questo problema. Perché purtroppo di questo problema se ne parla poco e mai in aula su questo problema abbiamo per poterne discutere il nostro presidente di regione che preferisce andare a tagliare i nastri in ogni dove ma non essere in consiglio regionale dove si discutono e si dovrebbero risolvere i problemi dei Veneti, soprattutto quelli della sanità. Sabato 6 aprile saremo in piazza tutti i comitati dei cittadini assieme ai sindacati e anche ai partiti per rivendicare ancora una volta la sanità pubblica che sta via via decrescendo. Questa nostra manifestazione è collegata anche a una manifestazione europea con gli stessi motivi. Salute per tutti, sanità pubblica, accessibile, gratuita, no alla privatizzazione, no alla commercializzazione della salute, bensì il diritto di essere tutelati nella nostra salute ma anche nell'ambiente e in tutto quello che ci circonda secondo quanto previsto dall'articolo 32 della nostra Costituzione e dalla legge 833 della riforma sanitaria. Quindi rivendichiamo questo diritto ancora una volta che viene sempre più anacquato e diventa sempre più poco esigibile. Siamo in piazza ancora una volta per dire che vogliamo una sanità per tutti.